E' tornata a riunirsi la commissione d'inchiesta sul sito di interesse nazionale di Bussi. I lavori guidati dal nuovo presidente Antonio Blasioli, che succede a Giovanni Legnini, sono ripartiti con il sopralluogo presso l'area ex Monte Catini, in località Piano d'Orta, frazione del comune di Bolognano. La visita è stata l'occasione per i commissari di fare il punto della situazione dal vivo di quella che è la situazione attuale. Fermo nella volontà invece di portare avanti un percorso che era già cominciato con il presidente Legnini, che vogliamo completare il prima possibile nel rispetto dei tempi dello statuto. L'occasione di vedere Piano d'Orta, questo sito di 35.000 metri quadri, sarà anche l'occasione di fare una fotografia di una situazione che c'è in questo momento, in cui non sembrano partite naturalmente le rimozioni dei materiali, nonostante un POB, un piano di bonifica operativa che era giustamente stato già approvato, sembrerebbe che non ci sono neanche le misure di messa in sicurezza, le misure di prevenzione. Oggi sarà l'occasione di fare una fotografia con la Polizia Provinciale, con l'Arta, naturalmente e con i commissari per capire bene questa situazione. Edison è stato individuato nel 2015 in un'ordinanza del presidente della provincia come soggetto inquinatore a seguito di alcune analisi che sono state fatte. So che c'è un contenzioso che è stato aperto, ma ogni volta che è stata fissata l'udienza di sospensiva, Edison l'ha poi ritirata nella mattinata, per cui sembrerebbero andare avanti e fare anche acquiescenza a questa individuazione come soggetto responsabile. Tenete conto che proprio sulla base di questa acquiescenza Edison ha presentato prima un piano operativo di bonifica al Ministero e adesso anche le analisi di rischio, che speriamo che il 30 giugno possa essere definitivamente accettate da tutti quanti gli enti. L'inquinamento sta anche sotto il terreno, quindi non è che ci possiamo limitare solo a girare intorno ai manufatti e per poterci fare qualche altra situazione, dove il TAR per motivi di coronavirus si esprimerà nel merito a dicembre. Però il TAR tra le righe mi dà la possibilità di insistere a cercare fondi per poter in autonomia abbattere questi manufatti obsoleti, certificati anche dai vigili del fuoco su una sopralluogo che facciamo all'epoca, in modo tale che Edison è costretto ad andare avanti. Il popolo che rappresenta ad oggi non ha la possibilità di dire abbiamo chiuso definitivamente questa vicenda della bonifica. Noi qua abbiamo avuto degli avi, dei nonni, dei nipoti, dei nostri padri che hanno avuto problemi tumorali e quant'altro. Anche là, in quel caso là, ho fatto pressione per avere un'analisi sulla salute totale sui residenti che purtroppo ancora oggi sto aspettando. Quello che vorrei fosse chiaro è l'obiettivo del Ministero. Il Ministero ha come obiettivo bonificare il prima possibile, bonificare rispettando la legge, evidentemente, e far sì che il responsabile dell'inquinamento paghi per l'inquinamento che c'è stato. Purtroppo quando si parla del SIN di Bussi si pensa sempre e soltanto a Bussi. In realtà è un'area molto più estesa che ricomprende tante persone che sono state colpite da questo inquinamento, tanti centri abitati, l'intero letto di fatto del fiume Pescara per cui è un'area vastissima. I 50 milioni di euro, per tornare all'argomento, sono una cifra importante ma certamente non sono sufficienti, per cui ci vorranno tanti più fondi per riuscire a bonificare l'intero SIN. Grazie a tutti.